in territorio di bauladu vi faremo conoscere il nuraghe mura e vigu particolarissimo lo capirete subito ci sono tantissimi crolli e niente adesso io spengo le inquadrature e andrò praticamente lì per portarvi all'interno di questo nuraghe che chiamano mura e vigu in territorio di bauladu bisogna per forza strisciare oggi sono venuto qua perché devo far vedere una cosa curiosa a proposito delle nicchie le nicchie sono insomma l'abbiamo visto all'interno del nuraghe le nicchie possono essere quelle a sinistra o a destra nell'ambito e una volta che si entra nella sala appunto ci sono le nicchie di sala possono anche non esserci è perché comunque ricordiamo che le nicchie sono dei vuoti evidentemente se ci sono se non ci sono sono degli aggorgimenti dettati seguendo la stabilità la statica del nuraghe ebbene perdonatemi ancora come sono messo perché sono in contorsione abbiamo praticamente apurato durante le nostre avventure che le nicchie possono essere in numero svariato abbiamo visto zero nicchie spesso abbiamo visto una nicchia molto spesso parliamo dello schema cruciforme perché sono tre in tantissimi nuraghi in qualche nuraghe sono solamente due vi porto dentro questo nuraghe perché i numeri che ho menzionato non ci sono ok allora grazie monica per l'inizio cari amici di cos'è la memoria mi devo praticamente arrottare ed entrare qui dentro a tra poco e allora ce l'abbiamo fatta abbiamo strisciato davvero tanto questo momento io sto inquadrando vedete come si muove il fascio luminoso sono inquadrando il poderoso architrave che noi abbiamo imparato essere a diversi metri d'altezza e quindi verosimilmente io in questo momento sto firmando su tanti cumuli di terra quindi il pieno di calpestio doveva essere molto più in basso in questo momento sto firmando l'andito quella quella zona del nuraghe che si chiama andito che solitamente come potete vedere vedete assomiglia un po a una barca rovesciata in questo caso proprio carenato e perché alla fine di tutto siamo entrati in questo particolare nuraghe di baulaudu perché come potete vedere innanzitutto vi faccio vedere la volta che praticamente eccola lì la volta è praticamente integra e quindi già per questo è uno spettacolo come potete vedere eccoli qua i massi sono poggiati uno sopra l'altro sopra poi quello che io adesso sto illuminando doveva essere il tamburo e lì c'è praticamente l'ultima pietra la pietra che chiudeva tutto ok però non era non aveva un fattore statico cioè non è che se io tolgo con la pietra con l'attuto abbiamo più volte detto abbiamo più volte letto che queste strutture fantastiche erano praticamente auto portanti ma veniamo alla bellezza di questo nuraghe perché vi ho portato qua amici di cos'è la memoria perché noi siamo abituati a vedere le nicchie di sala ok abbiamo parlato sempre dello schema cruciforme quindi tre e quindi contiamole una ok poi c'è un'altra nicchia qui due un'altra nicchia qui tre oh cavolo un'altra nicchia qui quattro amici dei custodi della memoria questo nuraghe a meno che non ci stiamo sbagliando perché come al solito bisogna mettere sempre in dubbio tutto quello che si dice e si vede questo nuraghe particolare perché a quattro nicchie ora nella letteratura non si parla tanto di nuraghi con quattro nicchie questo è uno dei quattro qualcuno dice che sono quattro qualcuno dice che sono due di sicuro io sono dentro a uno è un altro potrebbe essere a sedilo e lo chiamano nuraghe columbus e vi rifaccio vedere l'andito di nuovo la volta strepitosa di questo meraviglioso gigante quattro nicchie in questo nuraghe chiamato murai figus oppure murai vigu e allora cari amici dei custodi della memoria io vi lascio con le immagini delle quattro nicchie che in pochi secondi vi faccio vedere la vicino ok entrando dall'andito questa è la prima a sinistra bellissima sembra più una nicchia geometrica che una nicchia canonica questa perché se ne più trapezoide poi la seconda eccola qua strepitosa la terza ve la faccio vedere sono tutte nicchie chiuse tranne eccola qua io ve la faccio vedere anche così tranne quella di estrema destra perché quella di estrema destra ha poi una forma appunto reniforme e si chiude con quello che in alcuni nuraghi avevamo visto poteva essere il mezzanino però qua c'è un crollo e quindi bisogna vedere se questo portava da qualche parte oppure no ok amici dei custodi della memoria amici della sardegna vado al centro della sala illumino di nuovo il sito dal interno verso l'esterno vi mando un abbraccio vi vogliamo bene grazie del seguito ciao a tutti